Nasce proprio dalle investigazioni che riguardano la Cosca Giampà. Ovviamente voi sapete che abbiamo fatto diverse operazioni, Medusa, Perseo e tante altre, per centinaia di persone assicurate alla giustizia. I collaboratori che sono venuti fuori dopo i primi arresti della Cosca Giampà hanno fornito una serie di dichiarazioni auto-accusatorie ma anche etero-accusatorie. La Procura, un passo per volta, dopo aver debellato la Cosca Giampà nel vertice, nei promotori, negli organizzatori e negli adepti, si è messa a lavorare seriamente. Questa volta le investigazioni sono state affidate esclusivamente ai carabinieri. si è messa a lavorare sulla Cosca Cerra, Torcasio e Gualtieri. Noi sappiamo che una volta, dagli anni 90 al 2000, c'era una triade al vertice di un'unica Cosca che dominava sul territorio Lamettini, in particolare Nicastro e dintorni. Questa Cosca aveva al vertice Cerranino, che noi oggi di nuovo assicuriamo alla giustizia, come capo dell'attuale e vigente Cosca Cerra Torcasio Gualtieri, poi c'era Torcasio Giovanni che è stato, diciamo, ucciso, e il professore Giampà, il professore, il cui figlio, come voi sapete, Giuseppe Giampà, è stato quello che ha fornito i maggiori contributi dichiarativi e ha consentito di acquisire i maggiori riscontri. Da quest'insieme di contributi dichiarativi, dall'insieme delle capitazioni, dall'insieme della ricostruzione dei 24 omicidi che si sono verificati durante la terza guerra di mafia, siamo riusciti a concludere che la Cosca Torcasio Cerra, Gualtieri, è attuale, non solo, ma dopo la decimazione della Cosca Giampà, ha in tutti i modi cercato di riprendere il sopravvento e il proprio dominio, soprattutto in punto a estorsioni, su tutta Nicastro, nel castrocentro, oltre che su capizzaglie sulla quale ha sempre dominato. In particolare, diciamo, uno, Rainieri o Torino, vedete a che punto arriva la fidelizzazione, la chiamerebbero con linguaggio di indrangheta, i capi locali, di questo soggetto che si scrive sull'avambraccio I love Qualtieri, e una donna in una capitazione gli dice proprio questo, fanno finta di non conoscersi, e gli chiede un appuntamento perché gli deve parlare di una certa situazione, anche se sembra che non si conoscessero e che comunque non si telefonassero. Questa conversazione è molto efficace per capire come le donne sono fortemente inserite all'interno dell'indrangheta, e alcune di loro non solo sono delle teste pensanti, una, una, Cerra Teresina, un giornalista mi ha detto giustamente che era la mente ritenuta, poi fu assolta, noi continuiamo a ritenere che sia la mente dell'organizzazione, e che quindi sono sei le donne che abbiamo colpito da misure, anche se un po' sono state graziate dal GIP in punto di partecipazione associativa, e però le donne dimostrano di avere un ruolo importante, sono più resistenti in qualche misura degli uomini. Noi abbiamo visto molti trasfugi, noi abbiamo visto che per esempio, sia pure per ragioni tattiche, quando Muraka Umberto Egidio viene fatto oggetto di un attentato, perché lui ed un altro Torcasio Francesco, se non vado errato, se vado errato o qualtieri mi correggerete, sostanzialmente cercano di invadere, chiedono la tangente ad una ditta che sta costruendo la stazione Esso, e allora la stazione, quell'area apparteneva, dominio territoriale che sempre è all'origine delle liti e delle guerre, apparteneva a Giampa, l'imprenditore aveva già pagato Giampa, e quindi quello ha detto, ma io ho pagato, non posso pagare più, e Giampa gli hanno dato la lezione. A quel punto Muraka Umberto Egidio temeva naturalmente per la sua vita e cerca di raggiungere anche il padre, gli dà una mano, e poi c'è un amico che interviene, gli dà una mano per raggiungere Giampa. Giampa lo salva, lo grazia, però gli dice che gli deve portare il correo dell'episodio che riguardava l'Esso. In effetti pare che glielo porti, e quindi gli uomini passano, per Torcasio Francesco, gli uomini passano più facilmente da una parte all'altra, sono più ballerine, le donne sono più coerenti, più fedeli agli ideali sbagliati, ma per loro ideali anche delle cosche mafiosse.